Non siamo ancora a questo punto. Sogin ha recentemente consegnato la CNAPI, carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, ed è in attesa del nulla osta da parte delle autorità competenti. A seguito di recenti dichiarazioni dei ministri Galletti e Calenda, il nulla osta arriverà solo a valle della valutazione ambientale strategica sul programma nazionale di gestione dei rifiuti radiattivi. A valle di questo nulla osta potremo aprire un dibattito strutturato con le aree interessate per poter arrivare alla definizione del sito del deposito unico.